Le agenti di pubblica sicurezza in campo per le Olimpiadi di Rio saranno circa 88.000, ossia il doppio di quelli che erano stati impiegati per Londra 2012 e il triplo rispetto a quelli schierati per la Coppa del Mondo. La spesa per la sicurezza del Ministero della Giustizia e di quello della Difesa ammonta ad un totale di 370 milioni di dollari. Finora siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla sicurezza, c'è molta presenza militare ma ti fa sentire più tranquillo. In Cina qualcuno diceva che Rio non era sicura, ma sono arrivato qui e va tutto bene, la gente è cordiale e calorosa. Ma il Brasile non è solo quello che si è voluto mostrare al mondo durante i giochi, non è solo samba e divertimento, c'è anche e soprattutto un fortissimo disagio. Gli Olimpiadi si tengono qui vicino, ma solo poco più in Labia, ma una favela, hanno messo solo un pannello per nasconderla e dietro a quello succede ogni tipo di atrocità. Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Rio c'era la metà delle autorità che presenziarono alla cerimonia Chiapri-Londra nel 2012. L'aspetto positivo è che queste sono le Olimpiadi con un numero record di atleti e paesi partecipanti. Raffael Batista, do Rio de Janeiro, para a Euronews.